Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, vedete che piano piano mi sta anche ritornando la voce? E allora mentre aspettiamo l'inizio delle Olimpiadi, ricordate ragazzi di seguirle con me perché sarà un torneo stratosferico Allora mentre le aspettiamo io mi concentrerei certo naturalmente sui classici ma anche su quei personaggi sia maschi che femmine Che abbiamo lasciato un po' in secondo piano durante questi ultimi tornei E allora per questo motivo nel video di oggi guarderemo insieme la partita tra Levi Rootsman, che altrimenti non è che il nostro Gotham Chess Contro il più volte campione italiano Alberto David, partita giocata al recentissimo torneo di Spilimbergo e ottenuto partita a tempo lungo classico Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Maurizio per il suo SuperTanks, veramente grazie di cuore E poi Simone, nuovo abbonato alle mie video edizioni, mi raccomando ragazzi abbonatevi perché per soli 2,99€ al mese C'è una libreria per voi qui sul canale YouTube in cui ci sono più di 35€ di video che naturalmente aumentano mese dopo mese Tutti subito disponibili per voi a soli 2,99€ al mese Ritorniamo alla partita, come mai è importante perché Gotham Chess vuole il titolo di grande maestro e da qualche mese è ritornato alle competizioni dal vivo E allora vediamo com'è andata questa partita contro Alberto David Like al video e partiamo subito perché Levi Rothman di bianco apre con C4, quindi l'apertura inglese Sorprendente la risposta di David che gioca B6 E allora qui ci sono vari modi di continuare, anche E4 ma D4 pare ottima Alfieri in B7 sulla diagonale principale Sviluppo del cavallo in C3, arriva E6 E allora F3 che va a chiudere questa diagonale vuole spingere in E4 E qui secondo me David manca un'idea molto molto interessante Perché pensate, pensate che la risposta più giocata da nero in questa posizione è F5 Proprio a mo' di difesa olandese Seguita dalla più classica alfiere in B4 E invece lui gioca E5 che è un vero e proprio sacrificio di pedone E anche una novità alla quarta mossa E allora D per E5, cavallo in C6 Gotham Cess non sta a perdere tempo a proteggere questo pedone con l'alfiere Anche se naturalmente l'alfiere in F4 non è una mossa che perde tempo Perché poi il nero avrebbe attaccato di nuovo il pedone con la manovra del cavallo E prende subito il centro con E4 E allora il nero si riprende il pedone, cavallo che cattura in E5 Interessante questa spinta F4 che prende un sacco di spazio Cavallo sotto attacco si porta in G6 E allora sviluppo del cavallo in F3 Alfieri in F5 non vuol far arroccare il bianco E allora A3 per spingere in B4 scacciare l'alfiere Ma David spinge A5 C'è però un altro modo per scacciare questo alfiere Intanto Gotham gioca alfiere in D3 Cavallo in H6 per non mettere il cavallo subito sotto la spinta del pedone Ecco l'altro modo per scacciare l'alfiere Cavallo in A4, alfiere sotto attacco si porta in D6 Secondo attacco sul pedone in F4 protetto con G3 E allora arrocco corto per il nero, arrocco corto anche per il bianco Alfiere in C6 Non è che non mi convince, l'idea è chiara E' quella poi di spostare come ha fatto Alberto La torre in B8, tentare un controgioco sul lato di donna con la spinta B5 Re in G2 Torre in E8, nuovo attacco sul centro Ma il cavallo torna indietro e naturalmente in C3 sta meglio e protegge il pedone centrale Alfiere in C5 e arriva H3 E allora F6 sicuramente ottima Per quale motivo? Non tanto perché c'è il controllo sulla casa centrale Quanto perché questo pezzo non ha case offensive Deve essere riportato in gioco Quindi per permettere al cavallo di rientrare in gioco Alfiere in D2, cavallo in F7 E allora arriva donna in C2 che finalmente connette le torri Perché non è stato facile lo sviluppo in questo tipo di partita E qui arriva A4 Centralizzazione della torre in A che va in E1 D6, cavallo in D5 e torre in B8 Come dicevamo, per la spinta in B5 E allora Alfiere in C3 Guardate come prendano vita questi pezzi del bianco L'alfiere torna indietro in D7 Ma il nero è troppo passivo E qui probabilmente si vuole infastidire il cavallo Guardate, quando un giocatore ha spazio E dai pezzi attivi e anche avanzati Come è il bianco in questo momento Quando l'altro di conseguenza è un po' passivo Con poco spazio Ci sono possibilità tattiche E infatti il computer In questa posizione Vede un colpo tattico mostruoso Non vi faccio il quizone perché è veramente mostruoso Guardiamolo però insieme Perché ci può insegnare qualcosa Non lo trova Gotham Cess Che spingerà giustamente al centro in E5 Guardate cosa farebbe il computer Sacrificio di Alfiere in F6 E se il nero ricattura G per F6 Adesso si che arriva E5 L'idea è quella L'idea è quella di piazzare la donna Direttamente di fronte al re E allora la continuazione migliore F5 Alfiere per pedone Intanto se ne sono andati due pedoni per un pezzo Alfiere per alfiere La donna ricattura Guardate, attenzione al doppio Che vince la qualità Ma dopo D per E5 L'idea più Più precisa È la ricattura Per evitare il doppio del cavallo Bisogna che il nero giochi re in G7 E allora guardate Il pedone centrale avanza in E6 Cavallo sotto attacco Si deve spostare in H6 Perché attacca la donna E più che altro difende Difende dal micidiale Scacco di donna In F7 La donna sotto attacco Dove va? In D3 E minaccia Minaccia il bestiale Scacco dalla diagonale Lunga scura E allora il re si deve spostare in G8 Cavallo in E5 Di nuovo l'idea è quella di piazzare La donna a dare scacco Di fronte al re Ma si perde il pedone Torre che cattura in E6 Ed è la seconda protezione sul cavallo E qui Siamo al nostro quizone Qual è secondo voi L'idea più precisa A disposizione del bianco Ci sono due mosse Che sono praticamente Lo stesso pezzo Che si muove In due posizioni diversi Ma l'idea finale È sempre la stessa E allora Mettete pure in pausa E da voi la parola Ritorniamo subito a noi Cavallo in G4 Mossa migliore E qual era l'alternativa? È questa Vedete? Cavallo in F7 E che cosa fa? È la torre sospesa Minaccia di catturare il cavallo con scacco E allora qui Come si continua Si continua La situazione è brutta Torre per torre in E1 Cavallo per cavallo in H6 con scacco Si riprende il pezzo Scusatemi Re in G7 attacca il cavallo Si sposta in F6 con scacco Quando il re si sposta Il bianco si riprende la torre È rimasto non solo con un pedone di vantaggio Ma questo sai Serve a poco Ma più che altro Con una posizione dominante Un attacco fortissimo Ritorniamo a noi E invece arriva E5 E allora Donna in C8 Si è perso un po' di tempo da questa parte Vuole il contrattacco Ma è un contrattacco Che non spaventa Gotham Cess Che il sacrificio lo fa Ma lo fa in G6 Anzi scusate Che non sacrifica Ma cambia l'alfiere Su cavallo in G6 E allora Il pedone Si viene lasciato in presa Alfiere per pedone In H3 con scacco Il re si sposta Il nero col pedone H Si riprende il pezzo E qui Ecco il vero e proprio sacrificio Sacrificio del cavallo In F6 con scacco Minaccia anche la torre E allora cosa succede? Quando David Col pedone Accetta il cavallo Si è aperta Vedete La colonna G E allora la cattura di donna In G6 Arriva con scacco Bisogna salvare il cavallo E allora Re in F8 Il pedone Cattura In F6 Minaccia lo scacco matto di donna Donna in G4 Mantiene La protezione sull'alfiere Minaccia la donna E controlla La casa di matto Ma la mossa finale E donna in G7 con scacco E dopo 28 mosse L'italiano Alberto Davide Abbandona Come mai? Perché dopo donna per donna Mossa forzata Perché il re non si poteva muovere Il pedone Ricattura con scacco Ed è pure protetto E allora il re Deve andare in G8 Il bianco Si riprende il pezzo Con vantaggio decisivo E allora Giochiamo ancora qualche mossa Dopo cavallo In H6 G4 Per avanzare i pedoni C6 F5 Arriverà anche F6 G5 E non c'è modo Di vincere questo finale E allora Bravo Gotham Chess Partita un po' sotto tono Di Del nostro mitico Alberto Davide Che ha provato Un setup interessante E anche Con Con quella novità Del sacrificio Sarebbe interessantissimo Giocare Quella spinta F5 A modi Olandese E studiare qualcosa Da Lì in poi Ma comunque Levi Rootsman Sta tornando vicino Ai 2400 punti Elo L'ultima classifica Ancora non è aggiornata Perché sapete Si aggiorna all'inizio Del mese prossimo Io gli auguro E credo proprio anche voi Di realizzare il suo sogno Di diventare grande maestro Noi naturalmente Lo continueremo a seguire Io come al solito Vi ringrazio tantissimo Per l'ascolto Buon fine settimana a tutti E noi ci vediamo Lunedì Con un nuovo video A presto Grazie a tutti